Conferenza stampa di Forza Italia presso la sede provinciale del Movimento e la presenza della deputata Sandra Savino, del consigliere regionale Bruno Marini, del consigliere circoscrizionale DUPZ ed ancora del capogruppo in consiglio comunale a Trieste, il capogruppo forzista Everest e Bertoli. Per quel che riguarda Marini l'intervento di Bruno Marini ha evidenziato come l'allineamento dei pianeti ovvero comune, provincia, regione, tutto in mano al centro-sinistra non abbiano portato alcun beneficio per la città di Trieste e soprattutto che non è possibile per quel che riguarda il caso delle mense che Antonella Grimm ci abbia messo una settimana per rispondere tra le altre cose con risposte decisamente discutibili. La città è ferma e il sindaco deve cambiare rotta altrimenti la città rischia di andare in un buco nero senza ritorno.